mettersi nei panni di qualunque compositore dell'epoca è importante nella partitura a volte è possibile anche attraverso la grafica capire certi meccanismi psicologici bisogna mettersi nei panni del compositore perché il compositore va in mente determinate cose mettersi nei suoi panni significa riuscire a capire qual era il suo pensiero non è importante che comprenderlo al cento per cento è importante avere un certo modo di pensare un certo modo di operare in questo modo si riesce a tradurre le intenzioni del compositore